Gianni Politi tra un collegamento e l'altro con la Rai, questa partita come l'abbiamo vista? L'abbiamo vista con un occhio diverso, quello nei confronti del calcio vero dove ci si dà la mano alla fine della partita senza sbarramenti, polizia, uffici stampa, sponsor esclusive, vedere tifosi delle opposte squadre che escono insieme e magari si danno un passaggio, è il vero messaggio dello sport che tutti gli altri sport comunicano e che il calcio non riesce a fare quindi quelli che il calcio ha voluto dare visibilità ai semi professionisti che finiscono per diventare i veri professionisti del calcio umano Se dovessimo dare un giudizio su entrambe le squadre come potremmo definire? Il Foligno è molto più attrezzato, Castel di Lama se la batte per i playoff quindi comunque ha dimostrato che al di là del risultato 2-0 le due disattenzioni della difesa potevano anche essere evitate e magari il risultato avrebbe preso un'altra piega Grazie infinite Grazie a voi Bentornati in studio, abbiamo visto dalla sigla di apertura, il Foligno esce vincente da Castel di Lama 2-0 risultato pulitissimo all'inglese, a commentare questa gara interessante e decisamente meritata abbiamo due ritorni Grazie a tutti